salve salve oggi mi trovo nei dintorni di sortino in una delle mie tante passeggiate mi sono appena imbattuto in quella che era una mannira c'è un antico ovile dove all'interno venivano custodite le greggi quindi pecore e capre però la cosa particolare che ormai sono molto rare queste cose è che abbiamo l'antilupo vedete qua mi trovo all'esterno dell'ovile e praticamente c'erano queste pietre molto lunghe allungate che uscivano di fuori in modo che i lupi non potevano saltare e quindi entrare all'interno dell'ovile adesso mi trovo nell'altro lato dell'ovile della mannira ci sono le mucche ancora oggi ma prima c'erano le pecore le capre ed è veramente eccezionale per me sono delle testimonianze di un mondo che fu qua parliamo di almeno più di cento anni fa perché il lupo si è stinto appunto circa cento anni fa in sicilia non c'è più però magari era anche contro altri predatori come le volpi e simili date vedete un tipico esempio di muro che è caduto ormai li stiamo veramente perdendo questi capolavori di architettura rurale qua si può vedere i pezzi dell'antilupo che erano appunto delle pietre più lunghe di quelle del muro a secco normale e ancora le possiamo vedere ma ormai ne sono rimaste poche veramente di queste piccole meraviglie adesso invece mi trovo all'interno dell'ovile vedete da qua si può notare come erano alte queste mura che proteggevano le greggi e qua possiamo vedere il passaggio da dove passavano le pecore soprattutto pecore ma anche capre passavano uno alla volta da questi passaggi in modo che il pastore poteva contarle quando entravano e quando uscivano e allora io sono paolo cavarra guida turistica e naturalistica di sortino mi piace fare questi video per promuovere il mio territorio e promuovere anche la mia attività di guida un saluto a tutti e enjoy Sicily